La 22esima giornata del campionato marchigiano di prima categoria Girone A vede il Gabice Gradara scendere in campo con il Peglio. I rosso-blu scendono in campo con Palazzi, Gaia, Lapia, Balducci, Ridolfi, Filocomo, Franchini, Calisini, Battisti, Signorini, Pritelli. I biancazzurri rispondono con Sensi, Boinaga, Lucciarini, Manenti, Londei, Baldelli, Antonucci, Leoni, Baldelli, Tonin e Paiardini. La cronaca. Primo tempo povero di azioni con i padroni di casa che partono in quarta per poi decelerare già dopo il primo quarto d'ora di gioco. Al secondo minuto di gioco il Gabice Gradara si rende pericoloso con Lapia che da fuori aria colpisce il palo della porta difesa da Sensi. Dopo sei minuti Ridolfi cerca la porta da fuori aria ma il suo tiro finisce ben oltre la traversa. Al venticinquesimo rimessa laterale dalla bandierina, Tonini intercetta la sfera ma il suo tiro finisce a lato. Il secondo tempo inizia in sordina così come era terminato il primo. Al ventesimo il Gabice Gradara sblocca il risultato. Punizione per i padroni di casa, Franchini tocca la sfera e passa Battisti che con una buona mira insacca la rete ospite. 1-0. Al ventisettesimo Lapia atterra Paiardini davanti alla porta casalinga. L'arbitro Santucci di Iesi decide per la massima punizione in favore degli ospiti. Il capitano Leoni si incarica della battuta ma Palazzi non si lascia sorprendere e riesce a parare il rigore. Martinelli cerca di recuperare ma il suo tiro finisce oltre la traversa. A questo punto il Gabice Gradara tira fuori le unghie e lotta per la rete del raddoppio. Al quarantesimo Signorini lancia Franchini che dopo aver superato la difesa ospite si porta davanti alla rete e insacca la sinistra di Sensi. Al Peglio non bastano quattro minuti di recupero per accorciare le distanze. Gli ospiti vedono affievolirsi sempre più la speranza di salvezza e si preparano ad affrontare quasi sicuramente i play-out. Per il Gabice Gradara invece questi tre punti sono fondamentali per tirare un sospiro di sollievo e tentare la scalata alla vetta per poter disputare i play-off. Una vittoria un po' sofferta e i due gol sono arrivati nel secondo tempo. Comunque una prestazione direi discreta del Gabice Gradara. Sì, abbiamo fatto secondo me una buona partita. Magari non giocando benissimo però ho visto i miei ragazzi che avevano tanta determinazione, tanta voglia di vincere e alla fine è il risultato già premiato. Consideriamo che eravamo in emergenza, avevo chiesto ai miei ragazzi di dare qualcosa in più. Oggi sono stati bravissimi sotto tutti i punti di vista, non posso che fargli complimenti. Gli ultimi venti minuti del primo tempo e i primi venti del secondo tempo sono stati un pochino sotto tono. Avete un pochino accusato l'attacco degli ospiti. Ma non direi, solo che bisogna considerare che c'è un avversario che non è che magari viene a Gabice per fare la sua partita. Noi abbiamo cercato di controbattere, di cercare sempre di creare situazioni da gioco ma bisogna sempre tenere in considerazione che c'è un avversario che ti può mettere in difficoltà. Un attimino siamo andati in difficoltà però mi sembra che a parte rigore non ho visto occasioni da gol. E quindi siamo stati bravi, abbiamo concesso poco. Tre punti fondamentali per risalire la classifica, soprattutto dopo le due sconfitte delle ultime due giornate. Come affronterete le prossime giornate? Domenica prossima il Gabice Gradara sarà ospite a Fermignano? Sì, noi venivamo a due sconfitte che sicuramente non meritate. Noi abbiamo fatto un microciclo dal giorno di ritorno, abbiamo fatto sempre ottime prestazioni. Solo il risultato non ci aveva premiato e adesso andremo a Fermignano per come sempre di cercare di fare il massimo. Io parlo sempre ragazzi di prestazione, di cercare di fare la prestazione vincente e poi alla fine si raccoglierà quello che il campo darà, dirà. Una sconfitta che fa male, visto che siete un pochino stati male ultimamente. Messi male, sì. Avevamo fatto una bella vittoria domenica contro una squadra importante. Venivamo qui con fiducia perché avevo visto che i ragazzi erano molto concentrati. Purtroppo è un po' di tempo, forse perché il salto di categoria un po' ci pesa. Gli episodi, anche se avete notato il primo gol che abbiamo subito, abbiamo concesso due punizioni. Forse che in altri momenti, con un po' più di tranquillità, la cosa non succedeva. Il rigore, tra l'altro un ragazzo che tira sempre dalla parte opposta e tutti i venerdì si fa arma tirare. Oggi è cambiato e purtroppo il portiere è stato bravo. Poi il secondo gol, forse quello che mi ha disturbato di più perché ancora c'erano 7-8 minuti importanti da giocare e su una ripartenza lunga che non c'era bisogno abbiamo subito un contropiede e poi lì è finita. Per noi diventasi molto difficile anche perché il Santa Cecilia mi sa che ha vinto dell'errore. Adesso abbiamo ancora altre partite. Dobbiamo andare avanti e sperare. Prossime due giornate, la prima sfiderete il Cucurano, la seconda l'USAV e Pesaro. La prima avete perso, mentre la seconda ha pareggiato. Solo che ripeto, anche facendo delle buone prestazioni perché anche oggi abbiamo giocato, mi sembra almeno dal mio punto di vista, la pari con una squadra che sa giocare a calcio. E so per caratteristica anche perché spesso mi capita di venire in Romagna e come caratteristica le squadre romagnole creano calcio. Più fase offensiva che fase difensiva. Ce la siamo giocata, solo che ripeto, ci capita spesso, con l'USAV in casa vincevamo, abbiamo sbagliato il raddoppio. E a Cucurano in quel periodo abbiamo subito due gol in due minuti, abbiamo cercato di riaprirla ma siamo un po' disattenti. E ripeto, il Cucurano sta attraversando un periodo molto felice perché anche ieri ha vinto 3-1 mi sembra col Sassoferrato Genga che secondo me a livello di esperienza in campo era una candidata perché forse è giocato peggio rispetto al Barbara ma a livello di esperienza in campo ce ne hanno tanta e sanno fare il loro mestiere. Quindi ce la giochiamo, ce la giochiamo proprio senza arretrare di un attimo e buttandosi tutto quello che abbiamo. Parato un rigore è direi più che fondamentale visto che avevate segnato un solo gol poi c'è stato il gol del raddoppio però se avesse preso gol probabilmente la partita avrebbe preso un'altra piega. Sì, sono situazioni che almeno ti senti utile come partiere. Poi avendo una buona squadra solitamente subiamo poco quindi sono poche occasioni in cui sono chiamato in causa che mi devo far trovare preparato. Quando succede così sono contento, è bene. Dopo abbiamo fatto il secondo gol, si è spianata un po' la partita, bene così. Poi il rigore è una situazione particolare che dà più soddisfazione ancora. Una vittoria sicuramente utile per risolvere il morale dopo le due sconfitte subite nelle ultime due giornate. Ora come vi preparate ad affrontare le prossime giornate di campionato? Siamo stati bravi perché siamo venuti da due sconfitte. In più in questa partita avevamo molte assenze. Quindi diciamo che ci siamo uniti come gruppo, eravamo decisi a fare risultato. Adesso è sempre uguale. Andiamo partita per partita visto anche che poi il distacco da quelle davanti è un po' aumentato. Allora cerchiamo di andare decisi ogni partita singola e vediamo alla fine quanto abbiamo accumulato di punti. Grazie. Grazie.